Ciao ragazzi, mio nome è Elisabetta e benvenuti all'Italia for breakfast. Oggi vediamo come preparare questa sopa di bianca. Poi mettere in un bacino i nostri bianca e poi cuoverele con acqua di acqua. Poi metterele in acqua per almeno 24 ore. Metteremo i nostri bianca e poi metterele a parte per un po' di un momento. Poi prendere una carota e lo tagliare in cubi. Poi metteremo il alfonio. Poi metteremo il alfonio. Poi metteremo un po' di olio di oliva, metteremo l'olio, le carote e il culo di mezzo. Facciamo friggeremo tutti insieme. Poi metteremo i bianca in acqua. Cirpariamo tutti insieme. Facciamo friggeremo tutti insieme per un po' di tempo. mettere l'acqua in acqua, fino a che copriamo tutti gli ingredienti. Settiamo la stessa a caldo di caldo, poi copriamo la acqua con la città e aspettiamo 2 ore. Dopo 2 ore, metteremo la nostra sopa e poi lo puoi imparare. Ho deciso di imparare con un po' di chiave e pepe nero. Mi piace questo piatto durante i giorni freddi. Se avete piaciuto questa ricetta e volete supportare me, abbiate questo canale. E, come sempre, ci vedo la prossima settimana per un nuovo video.